Sono lì a certificare la loro netta superiorità, Pierre. Hanno costruito e tirato di più in porta, sfruttando poi la buona giornata degli attaccanti per segnare diversi gol. Mi risulta davvero difficile. Attenzione, guarda, Pierre! Tenta il pallonetto. Palla che entra! La fantastica tripletta di Leo Messi, un alieno. Ha mostrato grande freddezza in offensione del gol che ci viene riproposto. Tocco morbido a scavalcare il portiere.